Oltre 150.000 euro spesi, 7 anni di attesa per riconsegnare ai lavori, una scossa di terremoto per mandare tutto in fumo e rendere nuovamente inagibile l'Istituto per Programmatori Pascal di Teramo. I lavori di ristrutturazione dei laboratori di informatica, infatti, gravemente danneggiati dal sisma del 2009, erano stati riconsegnati dalla provincia solo lo scorso aprile. Dopo una lunga serie di interventi strutturali, la riparazione delle opere murari lesionate, i lavori di miglioramento antisismico, con una procedura durata 7 anni, questa notte l'ala dell'edificio, che ospita le 6 aule informatiche, ha subito ingenti danni. L'edificio è nuovamente inagibile e presenta gli stessi danni subiti nel 2009. A questo punto la domanda nasce spontanea. Qual è effettivamente il contenuto del progetto di ristrutturazione presentato dalla provincia, approvato dall'ufficio per la ricostruzione di fossa solo nel 2015, dopo ben 6 anni? Cosa non ha funzionato nei lavori di ristrutturazione se dopo la scossa della scorsa notte siamo tornati indietro di 6 anni?